Rihanna vende l'appartamento di NY, presto la convivenza con Hassan Rihanna mette in vendita il suo appartamento, ha altri progetti. A quanto pare Rihanna è pronta a progettare le sue nozze con il fidanzato saudita Hassan Yameen. La famosa ed amata cantante, infatti, ha fatto sapere che non rinnoverà il contratto di locazione del suo appartamento di New York, dal momento che ha altri progetti con il compagno. Pare proprio che una fonte abbia rivelato alla rivista Look che la cantante fosse molto affezionata al suo appartamento, non solo per i momenti condivisi con gli ex fidanzati, ma anche per la sua vita da single. L'appartamento di Rihanna è stato messo in vendita al prezzo di 16,95 milioni di dollari. La coppia è pronta a costruire un futuro insieme, entrambi hanno rivelato di sentirsi più coccolati quando si trovano a Londra o a Los Angeles. Dunque, i due potrebbero costruire il loro futuro proprio in una di queste città. Rihanna chiude definitivamente con il passato. Rihanna sembra essere molto eccitata per questo nuovo ed importante cambiamento della sua vita. La cantante si è rifiutata di partecipare alla festa di compleanno dell'ex fidanzato Drake, dal momento che vuole chiudere definitivamente con il suo passato. Inoltre, Rihanna si è mostrata alquanto infastidita dai riferimenti fatti alla sua persona da parte dell'ex fidanzato Cheris, nei testi delle sue canzoni. .